Renzi fa propaganda, non credo che ridurrà le tasse, lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, commentando l'annuncio del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in merito alla riduzione delle tasse nel 2016. Il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris, ai nostri microfoni, si è anche espresso in merito al commissariamento di Bagnoli. Ascoltiamo. Renzi fa a mio avviso propaganda, finora ha solamente tagliato, tagliato pesantemente ai comuni, tagliato in particolare alla città di Napoli, anche l'operazione degli 80 euro alla fine erano ulteriori tagli ai comuni, non ci credo che riduce le tasse. Lo stesso Frasario Berlusconiano, io so che finora con i tagli ci sta un po' alla volta strangolando. Strangola le nostre comunità perché non si è più in grado di garantire servizi, non si possono fare bilanci, non si possono dare risorse aggiuntive per scuole, per strade, per manutenzione. Insomma sta facendo un poco quello che la troica ha fatto col popolo greco. Quindi sono molto critico perché sono solo annunci per fargli recuperare a suo avviso un po' di credibilità, invece è mera propaganda. Finora abbiamo visto tagli e annunci e addirittura ulteriori tagli che si prevedono. Noi infatti in queste ore dobbiamo approvare bilanci in condizioni veramente di estrema difficoltà. Noi siamo pronti per partire, abbiamo fatto tantissimi atti amministrativi, lo tiene bloccato Renzi. Lo tiene bloccato Renzi dal 14 agosto, noi in questo anno avremmo potuto fare tantissime cose, quindi non è come disse a giugno a Napoli durante Repubblica delle Idee, che disse ci penso io a Bagnoli, abbiamo visto come ci sta pensando. Lo vuole commissariale, vuole mettere una persona di sua fiducia, forse pensa che Napoli sia il gran ducato di Toscana. Ha un po' sbagliato e se ne accorgerà nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Lui lo farà, ma farà un commissario che non può esistere, non può esistere giuridicamente, non può esistere istituzionalmente, è contro la legge, è contro la Costituzione, è contro il popolo. Quindi lo farà pure prima o poi, materializzerà il fantasma, farà un nome e lo troverà a un certo punto. Certo è un po' surreale che in un anno ci tiene bloccati, ha fatto una norma in violazione della Costituzione, ci tiene fermi, avrebbe potuto fare quello che doveva fare, perché lui ha firmato un atto, Renzi non è che ha detto una cosa, Renzi il 14 agosto ha firmato un atto, nel quale ha detto vi do i soldi per la bonifica, insieme ripartiamo con procedure accelerate. Pensate in un anno quanto si poteva fare, noi abbiamo rispettato i nostri patti, che se andate a vedere, noi abbiamo rispettato punto per punto quello che c'era in quel patto il 14 agosto. Ecco perché io sono gripe, lui fa solo annunci, poi ha detto, lui fa anche peggio, perché firma documenti che non rispetta e fa il Presidente del Consiglio. Allora questo è un tema molto delicato, perché Bagnoli non è solo Napoli, Bagnoli è l'Italia, è una delle aree più belle, potrebbe creare tantissimo lavoro, potrebbe mettere in moto economia, la spiaggia pubblica, il lungomare, tutto quello che sta scritto là, ma perché non possiamo farlo con le procedure ordinarie, perché lo vuoi commissariare, perché ogni volta cacci dei nomi che non hanno nulla a che vedere con la democrazia del territorio, decide chi viene eletto dai suoi concittadini, decidono i concittadini attraverso la democrazia partecipativa, decide la Regione attraverso il Presidente che è stato eletto, decide il Governo attraverso le sue articolazioni, non c'è proprio bisogno di un commissario, quindi questa è la mia riflessione, non so più che commentare, perché ogni tanto caccio un nome, vediamo chi sarà, poi alla fine commenteremo il nome vero.